Un saluto dalla redazione del Gireasi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. È iniziata la guerra commerciale tra Washington e Pechino. Sono entrati in vigore oggi i dazi americani, pari al 25%, su 818 prodotti cinesi per un valore di 34 miliardi di dollari e la risposta equivalente del paese asiatico su 545 beni americani. Il tycoon Donald Trump ha minacciato di intensificare, in caso di ulteriori ritorsioni, queste misure punitive nei confronti del colosso asiatico. Veniamo in Italia. Inchiesta Matera su nomine e concorsi nella sanità regionale. Arrestati il presidente della Basilicata, Marcello Pittella, del Partito Democratico, e i commissari delle uniche due aziende sanitarie lucane, Giovanni Chiarelli e Pietro Quinto. Una trentina le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza della città. Borsa europea in terreno positivo nonostante la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. L'indice Fuzzimib della Borsa di Milano ha aperto le contrattazioni odierne in rialzo dello 0,3% a 21.989 punti. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie per la visione.